Luna Colombo e la stancazza fisica Dai Luna ci metto troppo a smontar tutto Te la pigli col bastone No No Tac Guarda lì che beltà Ciao fans, nella quinta parte di questo viaggio Siamo partiti dalla cima del passo di Lucomagno Che non ci aveva dato grandi emozioni a salire Abbiamo scoperto che scendendo la strada e il paesaggio erano nettamente migliori Anche se alla fine era una sorta di statale di montagna Senza molte curve e abbastanza larga Man mano che facevamo la discesa abbiamo visto diversi cantieri stradali Dove per l'ennesima volta abbiamo capito perché le strade svizzere sono così belle Cioè fans lì praticamente fanno proprio le fondamenta all'asfalto Non è che quando ci sono due buche buttano giù due pezzi di asfalto a caso E poi alla prima pioggia salta via tutto Cioè lì fanno le fondamenta Infatti le strade svizzere sono praticamente quasi ovunque un biliardo Una volta finita la discesa siamo arrivati a Dissentis barra Muster Che è la cittadina dove si trova il bivio per andare verso l'Oberal Pass E' proprio qui pochi chilometri dopo il bivio che ci eravamo salutati Possiamo quindi ora lasciarvi con la sesta parte di questo viaggio Buona visione Poi c'è chi compra le moto con tutte le mega valigie Mille due Fa cento chilometri dice che ha fatto tanta strada Ah ma è vero eh ma ci sono eh Non è una leggenda Comunque fans siamo veramente nella Svizzera molto interna qui Cioè oddio molto interna Molto interna rispetto a dove siamo partiti E qua cioè siete veramente isolati Cioè nel senso si viene a vivere qua Sei veramente isolato Cosa c'è qua? A parte un vento della madonna che mi sta spostando la moto Attenzione imposta la curva per superare il camion Non arriva nessuno Se la sei orco cane arrivava alla macchina Ninchiamone Beh era lontanissima però Era proprio dietro il cespuglio Prutenza sempre mi raccomando Ma c'è di buono che è un'autostrada questa strada Quindi anche se l'avessi calcolata male Poteva spostarsi senza prendermi Ok luna strada sgombra O sgombro Forse un po' anche tonno Non scende nessuno Ah mica mi fa... mi fa... Mi ha fatto a segno di passare che era bucchera Che non arrivava nessuno Questo è perché c'è una mentalità migliore Purtroppo... Ma un po' è colpa nostra Cioè non nostra, mia e tua Ah attenzione ha fatto segno di andare piano Ah Non ho... Cioè? Non ho lacciato il casco Questo è abbastanza grave Ma non è la prima volta Non sarà di certo l'ultima E no perché poi mi dice E voi sei smemorata E non ti ricordi le cose Ciao fans Intervengo a questo punto Innanzitutto per ricordarvi di passare dal nostro shop Dove c'è in vendita tutto il nostro merchandise Visto che è piena estate Magari non so Una maglietta in più per andare al mare Ci può stare Detto questo Vi ricordo anche di venire a trovarci a Bema Nell'hotel dei genitori di Luna Ci sono tutti i riferimenti nella descrizione del video Poi fatta questa premessa Volevo dire che nelle riprese non si vede Perché è stato tagliato Perché ci siamo fermati Non aveva molto senso Nello storytelling Mettere quel pezzo Comunque avevo il casco slacciato Perché tipo un minuto prima Forse anche meno Ci eravamo fermati a cambiare le batterie Delle action cam E mi ero tolto il casco Per cambiare la batteria della Sony Che è attaccata al casco E quando ho rimesso il casco Non l'ho lacciato Cioè non è che andavo dalla mattina Col casco slacciato Ovviamente Anche perché se mandate indietro il video Vedrete che Nelle riprese prima di quella scena Era lacciato Quindi non vorrei che pensaste Ah ma guarda quelli Parlano tanto di sicurezza Poi vanno in giro col casco slacciato No non è che andavo in giro col casco slacciato Nella fretta di rimettere su tutta l'attrezzatura Dopo aver cambiato le batterie Visto che erano quasi le 5 del pomeriggio E ancora non avevamo pranzato Mi sono scordato Quindi Fatta questa precisazione Onde evitare commenti della serie Ecco l'imprudezza No Vi lascio con il resto del video Buona visione Fatto Però devo anche ripareggiarla Sony Perché l'ho accesa Accesa prima Ok Questi non segnalano più niente Quindi o quello di prima ci ha fatto una burla Beh o questi sono di c***o O questi sono infami O c'è un qualche velox da qualche parte Eh eh Beh comunque il limite è 80 Non l'abbiamo mai superato fino adesso Continuiamo così Ah però attenzione 50 Mi guardo con circospezione attorno Sì anch'io non vado niente Proprio quando meno te lo aspetti 60 Oh fine 60 A te Occhio Guarda che stringe un sacco Sì sono qua Comunque fans siamo sulla strada che porta all'Obera Alp Pass Sono abbastanza approvato Più che altro Stiamo guidando da veramente tante ore Senza mangiare E Un po' la sonnolenza la sta facendo da padrone E penso che siamo nel punto più lontano da casa Da quando siamo partiti stamattina Guarda che montagne Verdissime Sì Montagne erbose Un po' della serie su Verdi Pascoli ci ritroveremo Che ha un po' tipo l'epitafio funebre Ih Attenzione 50 di nuovo Siamo a Schmaut 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 Ah guardalo qua Ah sì Questo prendeva due sensi Sto andando a 27 Vabbè era a 50 Io sto andando a 42 Quindi vedi che il tipo che ha segnalato aveva ragione Eh sì Dopo 80 km comunque aveva ragione E via che si va Verso altri autovelox fissi Attenzione Altro cantiere, altro semaforo Mi chiama come in Italia Sì diciamo che qua perlomeno i cantieri Poi portano a determinati risultati Sì da noi no La Milano-Torino da quanti anni è che è un cantiere? Boh da quando sono nata io praticamente Da che mi ricordi La Milano-Torino è un cantiere Ancora inconcluso Beh direi che ci siamo Luna Io ti trasborderei la 360 Sinceramente detto con proprio tutta onestà Quindi appena Superiamo il semaforo Te la metterei in testa Perché secondo me siamo Siamo arrivati nel nocciolo della questione Che tristezza Guarda questa valle Guarda tutti gli automobilisti ignari Del fatto che arriveranno a un autovelox fisso Ma intenzione di farci passare Stiamo qua tutta la giornata Niente stiamo qua tutta la giornata Avevi impegni tu stasera? Ma guarda volevo uscire a cena Ancora? Basta Alleluia Ecco appena spenta la moto Luna Colombo e il tempismo Bello qua però Guarda che le donne ci sono Guarda una donna che guida la ruspa Sì vabbè ho capito Luna ma che lavoro stanno facendo Suminga Luna siamo nel clou Mi devo fermare per forza a darti la 360 Sì fermati E lo farò esattamente Non magari nel tuitoio Farò esattamente Qui Luna Colombo e la stancazza fisica Dai Luna ci metto troppo a smontare tutto Te la pigli col bastone No No Cosa che hai? Qua mi prude Non è niente Un po' più sopra eh Eh sì ma se mi schiacci le dita col casco Ok Hai i capelli Beata Te che ce li hai Tac Guarda lì che belta Sguardi già Di disapprovazione Anche il tipo in Ferrari ha sguardato con disapprovazione Beh comunque siamo all'inizio dell'Oberalp Pass Che dovrebbe essere qua sopra Giudicando dalle curve Dai arriviamo su che voglio mangiare Adesso mi fischieranno tutte le orecchie questa roba Via che si va Vieni che pareggiamo anche quella Vai fa l'interna Porco che ne sei stretta però Ecco mi puoi tutto fischiare Ma è so bello Luna Sembra tipo l'armonica a vento Bello Ma va bello Ma perché ci fa le foto noi? Ci segnala perché abbia l'unicorno Attenzione Luna Sorpasso prepotente Da parte di un tipo targato Lugano Che poi non è vero perché Lugano e Ticino Lucerna Ah vedi Non si finisce mai di imparare Apre tutto in seconda Non va un c***o Questo Oberal Pass mi dà già delle sensazioni migliori Del Luco Magno Beh che peggiore era difficile Guardala lì con che prepotenza si è insinuata Camper Incrocia le traiettorie Dammi guardando tutti Che vergogna Stacca profondo Ma neanche tanto Mamma mia Poi più vai forte E più fai la musichetta E certo È il suo bello È l'organo a vento Te l'ho detto Belle come protezioni Utili Porca p***a Stavi scivolando? Sì Anch'io Sulla Sulla linea bianca Sento puzza di arrivo Diciamo Sì Sessanta Sì 2046 metri Oberal Pass Ci siamo Andiamo un po' avanti a vedere cosa c'è Perché dall'altra parte i tornanti erano belli da fotografare Devo far volare il drone Al massimo supera il tunnel e vediamo com'è la strada oltre il tunnel È là È là ok Ma tu non vedi cosa c'è dopo la discesa Comunque guarda la casetta Del lago Beh fans Questo Ah vedi Uri Questo è l'Oberalp Pass 2046 metri Quindi tutti i passi di oggi in realtà non è che sono proprio altissimi Che fa Fammi vedere cosa c'è oltre questo strafantastico strapiombo Però Luna ha una foto col cartello Oberalp e dovevamo farla Siamo venuti fin qui Eeeh Dai fai inversione Andiamo a fare una foto Sì ma non mi sembra Cioè c'era gente Non mi sembrava niente di chi E di fermarmi a fare una foto Facciamo comunque una foto Perché Siamo arrivati fin qui E facciamo una foto Ora c'è un faro In cima all'Oberalp L'avevi visto? No Eh per forza Ma le hai mandate indietro tu? Sì Primo Per quale hai ragione? Pensai di non passarci sotto il ponte? Perché tornare indietro nella galleria Sapendo che cosa altrimenti vuoi fare Ah guarda c'è anche un ancora Ciao fans Siamo in cima all'Oberalp All'Oberalp Guarda il cartello Eccolo là E abbiamo scoperto che in cima al passo c'è il faro Più alto d'Europa Cioè non più alto di altezza Più alto nel senso che è il più alto Sul livello del mare Adesso lo facciamo vedere